Luigi hai scelto nella vita la carriera musicale, avresti potuto immagino scegliere altre varie opzioni, l'università, adesso non conosco bene i tuoi studi, ma hai scelto questa e l'hai confermata immagino nonostante difficoltà varie dell'essere musicista, qual è il motivo che ti ha fatto scegliere in origine e ti ha fatto mantenere questa scelta fino ad oggi direi? Ma devo dire che non è stata una scelta cosciente fondamentalmente, perché non è stata una scelta tra alternative parallele che potevo avere, perché diciamo che ho cominciato a suonare professionalmente a 14 anni, mi sono ritrovato a essere musicista Già al liceo avevo un'attività musicale abbastanza intensa, oltre che professionale, anche già un po' artistica, perché facevo già i primi concerti di jazz rock, latin rock, anche country solo e parallelamente studiavo molto lo strumento, chitarra classica, anche a plettro e poi ho cominciato già da lì anche l'attività didattica che mi ha portato a essere adesso l'insegnante di jazz del conservatorio di Milano e quindi diciamo che la domanda che potevo farmi o mi posso fare è perché c'è altro da fare che non ho musica La tua cifra stilistica è caratterizzata dal fatto che sei molto eclettico nei vari stili o sottostili jazzistici jazzistici dal fatto che sei il compositore del materiale che suoni questo da sempre come hai lavorato su questi due fronti? Ma allora parlando di queste capacità compositive è un po' un'indole naturale credo nel senso che già fin da giovanissimo mi veniva da inventare delle melodie in modo abbastanza facile e abbastanza semplicemente e tieni conto che poi è anche una questione di esperienze emotive di vita che ti fanno venire poi voglia di scrivere in un certo modo piuttosto che in un altro quindi non è solo lo studio specifico della musica e ad oggi ho registrato in diversi CD e diverse formazioni circa un'ottantina di mie composizioni originali la cosa bella è che sono state suonate e anche apprezzate da musicisti come non so George Garzone piuttosto che è Stefano Bollani con cui ho fatto un disco in duo l'Omaggio Bilevans e Gimoldo e però abbiamo inserito anche delle mie composizioni con Adam Nussbaum gli ho dedicato un brano ispirato al fatto che batteri sta pazzesco loro ho scritto un brano apposta per lui e non so anche adesso con Dado Moroni per dire suoniamo standards ma lui piace molto una mia balla ad Adriano quindi c'è una mia vita compositiva che ho praticato molto e queste composizioni sono state poi limate negli anni perfezionate per cui credo che abbiano assunto anche una certa maturità espressiva che hai dopo diciamo un po' di esperienza e per quanto riguarda l'ecletismo anche quello in parte appunto avendo riversato tutta la mia vita nella musica già da 14 anni mi sembra un po' impensabile che fosse direzionata solo in un unico versante e anche questo poi diciamo io l'ho sviluppato dedicandomi specificatamente e profondamente in determinati periodi della mia vita ad alcune esperienze formative musicali quindi per dire se non so sono stato in India e ho studiato musica indiana a Varanasi poi non so ho registrato free jazz con George Garzoni in America negli anni 80 ho fatto molto funky con il mio gruppo poi per dire professionalmente ho registrato due dischi per la Grecia dove suonavo musica greca ho studiato musica greca suonavo il busuki poi ho affrontato la musica brasiliana in modo abbastanza consistente facendo anche dischi adesso anche con Roberto Taufi che è il chitarrista brasiliano quindi tutte queste diciamo forze esperienze fanno sì che poi tu hai anche diciamo una varietà di linguaggio di stili che fa parte proprio del tuo escursus formativo un'altra caratteristica notevole è il fatto che sei sempre stato praticamente il leader dei gruppi in cui hai suonato o quasi questo anche con musicisti americani quindi quali sono perché questa vocazione diciamo e quali sono vantaggi e svantaggi dell'essere il leader? allora sì è vero sono leader ma io sono stato e ancora adesso magari un po' più occasionalmente ma ho avuto un sacco di collaborazioni con tanti artisti anche occasionali e estemporane ti dico soprattutto come ospite di tri, quartetti quindi anche diciamo che ho una forte esperienza credo consistente di palco come sideman per dire ho anche ospite di big band che per un chitarrista è una grandissima esperienza sono stato umbria jazz ospite in due brani della Millennium's Bug di Firenze poi recentemente Enrico Intra con la sua big band della Civica di Milano mi ha chiamato per fare un pezzo mio io sono stato ospite ho scritto un pezzo e arrangiato per tutta la big band quindi molto sideman in questo caso addirittura ho sostituito dei pianisti nel mio escursus diciamo artistico addirittura ho sostituito Stefano Bollani in un quartetto che aveva Mirko Guerrini Stefano non poteva faceva una tournée di qualche concerto e ha voluto cambiare sonorità al quartetto perché io mi sono tirato giù tutte le parti di pianoforte del disco abbiamo suonato il disco in tre concerti d'estate quindi questa cosa mi piace sottolinearla perché il fatto di fare il leader è effettivamente per me una scelta più per non è tanto un desiderio ma una necessità per poter esprimere meglio proprio come penso io la musica o alcuni versanti di questa e quindi da leader posso veramente un po' esprimermi anche da un punto di vista di organici perché è un po' tutto in mano tua anche a livello organizzativo e dico che costa molta fatica perché hai una responsabilità notevole con i tuoi colleghi organizzativamente dei contro se vogliamo è che in questo caso oggettivamente poi si è obbligato a limitare un po' le apparizioni se vogliamo usare questa parola perché il peso specifico del musicista è un po' più in evidenza per cui rispetto a un sideman che ha più possibilità qual è il sogno nel cassetto che ancora ti manca o il prossimo gradino ma in realtà non ne ho cioè quel sogno del cassetto di cui uno magari si aspetta da anni sono veramente soddisfatto di aver fatto un sacco di cose mi piacerebbe continuare a farla con un po' meno fatica un po' meno stress psicofisico poi se diciamo proprio per averne un po' di più di stress potrei pensare di fare un disco per big band con tutti i brani miei però almeno arrangiati da un vero bravo arrangiatore viviamo un momento in cui la diciamo la filiera e l'industria musicale è completamente rivoluzionata rispetto a 10, 20, 30 anni fa come vedi l'evoluzione della musica jazz in futuro alla luce dell'MP3 lo streaming sia da un periodo artistico che di produzione di produzione io ho sempre pensato alla produzione come un mezzo per poter esercitare il live diciamo magari più facilmente quindi per me è sempre più importante e credo che in futuro lo diventi sempre di più questa cosa del live della musica jazz classica musica acustica che è questo plus valore che non avremmo mai con i supporti e pensarci bene la verità che tu hai in un concerto live di questa tipologia di musica questa sana imperfezione del live secondo me è la cosa che poi tutti fondamentalmente apprezzano e cercano quindi vivere nell'etere ancora e sempre di più secondo me poi si ritorcerà la cosa e voglio pensare a una valorizzazione sempre maggiore della musica dal vivo perché le emozioni che dà la musica dal vivo non c'è youtube non c'è video che possano compensare un'ultima domanda se ci fosse qui un giovane talentuoso che vuole avvicinarsi alla carriera musicale che cosa gli consiglieresti? un consiglio? smetti subito cerca un lavoro vero se proprio invece insiste allora credo che debba cercare il giusto equilibrio il connubio tra star chiuso in casa a studiare esperienze di vita musicale di ambienti e anche un po' dedicare un po' di tempo al business grazie mille grazie a voi grazie a JetSit